Esiste una dimensione tra la realtà universalmente intesa e il... Ah, rega, ma che è davvero andata a finire così? Si trova in quello spazio tra luce e ombra, situato tra la razionalità umana e il... Ma che cazzo c'è dice il cervello? Quel posto si trova ai confini di tipo adesso. Luca, Luca, Luca! Dimmi, che c'è? Quello che ha ascoltato è Saviano. Che Saviano gli hanno revocato la scorta che dice. E chi è? Ah, no, ma quello è Mario, è il vicino. Cianciulli, Mario Cianciulli. Ah, è quello che ha scritto quella cosa su la camorra? No, non sa scrivere. Ah, è un magistrato. No, che magistrato, far geometra. Pentito. No. Ah, è quello che ha fatto l'inchiesta delle palazzinari domani e i casi farmaceuti. Oh, no, no, no. E che ha fatto? Ha spoilerato. Ha spoilerato? Si, si è immacchiato del delitto di spoiling. Ma pure cose grosse, eh. Finale di Games of Thrones, Avengers Endgame e altre cose piccole. Lui ha seriale proprio, eh. Infame. Pazzuole fango, bro. Vabbè, ma ti sembra normale? No, ti sembra normale a te andare in giro sui social alla chitichella così a spoilerare a tutti quanti il finale dei film e delle serie, ma chi sei? Ma no, ti sembra normale che uno che ha fatto una sergenere c'è una scorta? Ma guarda, lo volevano linciare, lo volevano linciare. Gli hanno mandato le buste con dentro i proiettili, le bombe carta sotto casa. Hanno tentato di avvelenarlo, adesso lui va in giro con due persone che assaggiano prima di lui tipo Putin. Gli hanno sparato due volte. E lo Stato italiano ha dovuto prendere dei provvedimenti, chiaramente. No, però scusa, eh, se permetti. Cioè, dipende pure da quanto tempo è uscito il film o la serie che ha spoilerato, no? Che cosa ne ho intendi, scusa, non capisco. Che se sono passate le settimane e tu ancora non hai visto la cosa che ti interessa, non te ne frega nulla, no? E quindi là c'è diritto di spoiler. Cioè, quindi praticamente tu mi stai dicendo che se in 50 anni non ho trovato due minuti per guardar me bambi, non mi posso avvelenare se qualcuno viene da me e mi dice che la mamma dei bambi more. Che hai detto? La madre di bambi muore. La mamma dei bambi muore? Lo sanno tutti. Ma tutti, eh. La mamma dei bambi muore pure i primi cinque minuti del film. Muore male, ammassa quel cacciatore, lo uccide, ci fa ragù, si lo magna. Che... oh, che... no, no, no. Che... no, Valerio! Il mio film preferito. Ma se lo sei mal corso, ma non... Ma ma... ma non è! No, 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 no! O-oh, no, 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 no... E me? Il suo sconso mi ha sponetato bambi. Che senso, scusa? Mi ha detto che viermo ora la mamma. Com'è la mamma, amore? L'onfame! Ma me-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! E' il mio film preferito! Ma come non l'hai mai visto? E tu me lo spaglieri così?